ciao amici amici di tagliale ragazzi oggi facciamo sempre un video breve di mercato che vi devo dire stanno uscendo tutte le notizie che che vi ho dato io non vi ho mai parlato di marcao e compagna bella vi ho sempre detto di smolling in difesa e non vi ho mai parlato di torrera a centrocampo non vi ho mai parlato di jovic ieri sera sono stato l'unico a dirvi che era in auge ancora mayoral che non era finita adesso piano piano ve ne farò accorgere amici di youtube ieri sera vi ho parlato del rinnovo di calafiori ma nel mio sito internet dagliale punto info l'esclusiva è di un mese fa e lo ripeto tutti i giorni anche sulle pagine social ripeto adesso faremo parecchi video youtube perché se lo se lo merita questo canale questo canale mi sta dando tante soddisfazioni e niente adesso parliamo di calcio mercato allora per smolling ragazzi è fatta è inutile sento dire è fatta stanno vedendo la formula per mettere a bilancio meglio questa questa situazione sia per il manchester united che la per la roma e stanno provando ad inserire il tersino destra e non so addirittura se lo fanno a prescindere anche se rimangono tutti e tre e per quanto riguarda fazio ragazzi sto aspettando una risposta importante la più importante direttamente da genoa e poi vi darò l'esclusiva per quanto riguarda il centro campo ripeto se non esce nessuno non entra nessuno se esce uno è l'unico che potrebbe uscire che se lamentate diaverà entra un altro e per quanto riguarda attacco maggiorale è fatta e niente stiamo ancora aspetta a jovic e ragazzi io vi dico una cosa il mercato è difficile difficilissimo per i giornalisti alessio un umile blogger vi ha chiesto scusa di giaco anche se poi giaco è rimasto perciò potrei di giaco l'ho preso la notizia ma non era vera la trattativa c'era vi ho raccontato anche in esclusiva dei ragazzi modugno e meloni diretti a napoli per milic per cui la trattativa era vera ma alla fine giaco è rimasto smolling ho sbagliato di qualche giorno ma smolling arriverà e per il resto penso di avervi raccontato bene tutto che un bulla non sapevo nulla ce fa pure rima ma capita che qualche notizia non la so io la sanno i giornalisti come io sapevo del rinnovo dei calafiori e che non sapeva nessuno e oggi se ne sono usciti tutti quanti un saluto da yeale vi aggiornerò su fazio se mi rispondono la notizia vi aggiornerò su fazio e sulla trattativa per il tersino destro e l'uscita di bruno peres sono queste le operazioni quelle che dovrebbero andare a conclusione di questo calciomercato perché mayoral è già andata in porto smolling vedrete che andrà in porto comunque però stanno vedendo solo di fare questi passaggi qua un abbraccio forte da yeale e ragazzi se vi piace il canale vi piace da yeale iscrivetevi fate iscrivetevi i vostri amici un bel like e attivate la campanella ciao da ye forza roma